Dopo una seduta a fiume, il Governo regionale ha approvato il bilancio previsionale 2021-2023 e il disegno di legge di stabilità. Sono state rifinanziate le voci di spesa corrente e i contributi agli investimenti senza operarne riduzioni per complessivi 14,8 miliardi di euro che in termini previsionali nel biennio 2022-2023 superano i 15 miliardi di euro. Attraverso riduzioni di spese e l'incremento delle entrate si supera la soglia dei 40 milioni di euro di riduzioni delle uscite concordata con lo Stato nell'intesa raggiunta il 14 gennaio 2021 che ha consentito, unica regione in Italia, l'utilizzazione di 421 milioni di euro a valere sul bilancio 2021 con finalità di contrasto agli effetti economici della pandemia da Covid-19. Per quanto concerne il ripianamento del disavanzo pluridecennale accertato nel 2019 dalla Corte dei Conti esso sarà effettuato a decorrere dal bilancio 2022 per un decennio. Anche in questo caso si tratta di disposizioni di favore riguardanti esclusivamente la regione Sicilia. Rispettata inoltre la percentuale di incremento concordata con lo Stato per gli investimenti a favore di autonomie locali, imprese e infrastrutture, rispetto allo scorso anno è stata ridotta all'80% l'entità delle risorse bloccate che ammontano per quest'anno a 65 milioni di euro. Si conferma come per lo scorso anno il mancato ricorso all'indebitamento il cui impatto in termini tendenziali è destinato a ridursi progressivamente. Incrementati in linea con quanto richiesto dalla Corte dei Conti il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità e il Fondo Contenzioso cui va aggiunto anche uno specifico fondo per ulteriori tipologie di debiti fuori bilancio. Inserite le risorse per il rinnovo del contratto di dipendenti regionali per 52 milioni di euro ed una prima trancia di risorse per il ripianamento per la copertura dei debiti pregressi delle aziende sanitarie. Quanto alla legge di stabilità sono state inserite norme di riduzione della spesa ma anche di incremento delle entrate, di sostegno alle imprese, di tutela e riconversione ambientale di semplificazione delle procedure, previsti interventi per le attività sociali, cultura, sport, turismo e spettacolo e una specifica iniziativa a sostegno dei piccoli comuni delle aree interne interessate dallo spopolamento. Grazie. Grazie. Grazie.